Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani. Io insegno alle persone come connettersi con le nuove frequenze di luce. Mi trovo qui con Patrizia Del Popolo. Ciao Patrizia. Ciao Rossella, ciao a tutti. Patrizia è qui per lasciarci la sua testimonianza sul percorso di coaching di due mesi dove ha imparato appunto a connettersi con le nuove frequenze interagire con esse e volevo chiedere a Patrizia come è andato questo percorso, Patrizia. Guarda Rossella, per me è stata un'esperienza meravigliosa veramente nel vero senso della parola. non avevo esattamente idea di quello che stavo andando a fare con esattezza. Mi incuriosiva tantissimo questo percorso. L'ho scelto proprio con amore, con voglia di conoscere e di imparare. C'era qualcosa al di sopra di me che mi spingeva a intraprendere questa strada e non mi sbagliavo perché è stato veramente qualcosa di speciale anzi più di quello che mi aspettavo perché non appunto come ti ho detto prima non avevo idea esattamente di che cosa stavo andando incontro ed è stata un'esperienza veramente unica e speciale. Mi ha arricchita tantissimo. Com'è stato per te sentire le nuove frequenze nelle tue mani? È bellissimo. Guarda, io Rossella nonostante tutto non avevo questa grande esperienza in questo campo. Dal primo momento ho avvertito, proprio dalla prima volta che ci hai fatto provare e ho avvertito subito qualcosa di unico, qualcosa di veramente spiegabile con le parole. Si deve provare per capire in realtà, forse per ognuno di noi poi è soggettivo come abbiamo visto anche nella classe che tu hai tornato. Sì, perché ognuno... Non c'è più in maniera diversa. Brava, brava, anche se è stata un'esperienza forte per tutti, da quello che abbiamo visto. Però io ti posso dire che dal primo momento, sia dalla prima volta che ho provato, ho percepito subito questa energia fortissima nelle mani e mi sono meravigliata tanto e mi ha emozionato tantissimo questa cosa perché è una cosa che senti, ma non è una cosa che dici, ma forse, chissà, o è la suggestione. No, no, è un qualcosa che c'è, che esiste. Assolutamente. A me ha emozionato tantissimo. Ascolta, che beneficio hai avuto tu dalle nuove frequenze di luce? Durante il percorso, durante le sessioni di riequilibrio energetico che hai ricevuto da me, hai notato qualcosa? Hai avuto un cambiamento? Sì, 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 decisamente. Decisamente, infatti, rilascio questa testimonianza con tutto il cuore e vorrei che arrivasse al cuore di ognuno che sta ascoltando questa intervista. A me mi ha cambiato, mi ha cambiato tanto e mi ha riempito l'anima, se così si può dire. Mi ha dato una sorta di conforto interiore, mi ha dato una sicurezza che cercavo tanto, perché in effetti il motivo principale per cui ho intrapreso questo percorso era, appunto, per me, una cosa mia, una maggiore sicurezza di me stessa, una maggiore fermezza, capire ancora di più la strada da intraprendere. Questo percorso mi ha dato tanta sicurezza, mi ha dato un conforto interiore straordinario, una sensazione proprio di conforto, di sicurezza, appunto. E poi facendolo anche perché quando ho acquistato sicurezza ho provato a farlo, cioè ho iniziato le prime volte a farlo al mio figlio, a mia mamma, senza che loro conoscevano questa situazione, tutto quello che abbiamo fatto noi, da subito mio figlio che ha 13 anni ha avuto dei benefici, aveva problemi alla clavicola, per esempio, giocando al pallone, aveva dato un colpo di testa, gli faceva male la spalla e soprattutto qui la clavicola, e mi diceva mamma mi fa male, mi fa male. E lui stesso mi ha detto, dice ma perché non proviamo, visto che ti ho sentito, perché a volte mi sentiva che noi eravamo online. Certo, certo. Inestamente un po', sai, ero tentennante perché è stata la prima volta per me. Certo. E quando ho fatto la prima sessione con lui, subito, cioè già da subito, dopo cinque minuti, innanzitutto quando abbiamo finito si è rilassato talmente tanto che stava quasi per addormentarsi. Ma dopo cinque minuti si è svegliato ed era entusiasta perché mi diceva mamma sto bene, mamma sto bene. E' stato un'emozione veramente grande. Bella, veramente bella. Che bello. Ascolta Patrizia, a chi consiglieresti questo percorso? Rossella, io consiglio questo percorso a tutti coloro che stanno cercando un qualcosa che forse a parole neanche si può spiegare o perlomeno a tutti quelli che hanno bisogno di qualcosa in più nella vita o comunque di una sicurezza in più o qualcuno, cioè a tutti quelli che vogliono avvicinarsi, cioè che hanno una predisposizione a quello che è lo spirituale e sicuramente ne trarranno dei benefici tutti coloro che hanno bisogno comunque di un qualcosa in più perché te lo senti, te lo senti quando c'è qualcuno che ti infringe o comunque che ti incuriosisce, perlomeno per me è stato così. Quindi sicuramente non se ne pentiranno, cioè ne vale veramente la pena. Bene, grazie cara Patrizia. Grazie a tutti. Un piacere. Ti auguro tanta luce per questo percorso e che tu possa facilitare il riequilibrio a tantissime persone e che possano ricevere il beneficio di cui hanno bisogno. Io ti saluto. Tu sono certa e ti ringrazio. Tu sei una maestra straordinaria, quindi è il massimo che si possa avere. Avere una maestra come te che dà tanto, quindi questo già è una bellissima esperienza conoscere te e assorbire i tuoi insegnamenti. È bella che sei. Grazie Patrizia, un abbraccio grande grande e un bacione a tutti. A presto. Ciao a tutti. Ciao ciao.